Avete Netflix? Non potete più condividerlo. Aspetta, 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 facciamo un attimo il punto. Ve lo avevamo già anticipato su Ciaccheazione. Adesso Netflix limita la condivisione dell'account anche in Italia. Da oggi infatti entra in vigore un sistema pensato per evitare che lo stesso abbonamento venga usato da persone che non vivono insieme. Ma cerchiamo di fare il punto e spiegare bene cosa è successo. Martedì Netflix ha emanato un comunicato in cui ha sostanzialmente detto che entreranno in vigore delle nuove regole per evitare che le persone condividano un abbonamento anche se non vivono nella stessa casa. Si tratta di regole che sono già in vigore in Canada, Portogallo, Spagna e altri paesi latinoamericani. Ma adesso le nuove regole valgono anche in Italia. Nel comunicato Netflix scrive che d'ora in poi si assicurerà che gli account vengano utilizzati solo da persone nello stesso nucleo domestico, ovvero te e chi vive con te. In pratica controllerà che tutti i dispositivi smartphone, tablet, smart tv si colleghino almeno una volta ogni 31 giorni allo stesso indirizzo IP cioè quella stringa di numeri che identifica una connessione internet di chi ha l'abbonamento e quindi dell'indirizzo IP del proprietario dell'abbonamento di Netflix cioè di chi ci ha messo l'email. Netflix ha anche sottolineato che non andrà a cercare col GPS la location delle persone ma si baserà esclusivamente su questo indirizzo IP che è legato al router, al modem wifi che avete dentro casa. Si può cambiare manualmente andando in impostazioni e potrete scegliere quale indirizzo IP associare all'account principale cioè alla mail che ha creato l'account Netflix. L'obiettivo di Netflix è bloccare l'accesso all'account da quei dispositivi che nei 31 giorni non si sono mai collegati da quell'indirizzo IP e quindi dalla casa, dal modem del proprietario dell'account. Agli account che però condividono il loro profilo con persone esterne al nucleo familiare verranno offerte due opzioni. Si può acquistare l'accesso per un utente extra al di fuori del proprio abbonamento a 4,99€ al mese oppure chiedere alla persona di creare un proprio profilo separato dove poter finire il film o la serie tv che stava guardando. In questo caso Netflix mette a disposizione l'opzione trasferisci profilo in modo che l'altra persona possa trovarsi, continua a guardare la sua lista eccetera eccetera. Ma perché Netflix ha deciso di fare questa cosa? Perché sta in difficoltà, diciamocelo chiaramente. Soprattutto per via della concorrenza delle altre piattaforme streaming che c'è in questo periodo. Netflix ha più di 230 milioni di abbonati in tutto il mondo e secondo i suoi calcoli altre 100 milioni di persone lo usano però collegandosi dal profilo di qualcun altro. La speranza è che almeno una parte di questi 100 milioni siano disposti a farsi il proprio abbonamento e quindi a cominciare a pagare Netflix di tasca loro. Il problema è che questa scommessa non sta andando benissimo. Pensate che nei primi tre mesi del 2023 Netflix ha perso già quasi un milione di utenti in Spagna dopo aver introdotto queste nuove regole. Quindi chissà cosa ci sarà da aspettarsi anche in Italia dopo l'introduzione di queste nuove limitazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste nuove regole di Netflix e se siete d'accordo con la scelta dell'azienda di limitare la condivisione degli account e se pensate che questa cosa possa invece diventare un boomerang per la piattaforma streaming. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a che azione, attivate la campanellina e mettete mi piace a questo video per sostenerci. Seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di film e serie TV. Al prossimo video!